Non c'è nulla di peggio che, dopo aver trovato la posa giusta per i selfie della vita, avere la batteria scarica. Mettere sotto controllo lo stato reale della batteria, può fare la differenza nelle standard nella durata e le prestazioni. La migliore applicazione per fare ciò, attualmente disponibile, è sicuramente Accubattery che oltre ad avere una sterminata serie di statistiche, si focalizza nel calcolarne l'effettiva salute, facendo la media della corrente che la batteria riesce ad accumulare in varie sessioni di ricarica e nell'ottimizzarle, con un sistema di notifiche per fare rientrare la carica nel range ottimale delle batterie a litio, compreso tra il 20% e l'80%. Utilissima anche la funzione che monitora in tempo reale la corrente accumulata o consumata, anche per singola applicazione, capire dunque l'effettiva potenza di un caricabatterie o la qualità di un cavo USB è un attimo. Declima ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. Grazie a tutti.